Musica Grazie a tutti. Grazie. Facciamo questo sogno. Lo conosciamo da tre anni. L'anno scorso abbiamo fatto il primo esperimento. I could do Swedish, but I think English would be better. Part of the job is talking the other guy into letting you do this. On the building. Anybody? All up here in the back. In particolare ci ha creduto. Ci ha creduto Mercedes Italia e è qui oggi Mirko Scarchilli. Il punto di vista per noi l'impegno nella montagna e nella neve è un impegno dedicato a questo periodo. Mi piace anche a noi come ABT sottolineare che... Applaudite molto durante questi 45 minuti circa. No, no, you fight. Grazie. 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 Merida, balla ancora, Merida, balla ancora. Non voglio colpa mia, quanto piove in vacanza, quanto perdo il treno, quando parte la luce, quando il nero avanza, quanto finisce il video, e quanto gira la stanza. Merida, balla ancora, non voglio col hydrò. Vento in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole. L'anima in faccia, alzo le braccia, pronto a ricevere il sole, per la libertà che mi vuole, che mi vuole. Pronto a ricevere il sole, pronto a ricevere il sole. Grazie! Mi vedo, l'arcobaleno, se piove. Oggi non lavoro, oggi non mi vesto, resto ludo e manifesto. Faccio un gesto e manifesto, oggi guardo il cielo. Grazie, grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie a tutti! 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 20 anni e finalmente oggi siamo là. Tu non sei normale, fa il rito d'anima, Mary cambia. Tu non sei normale, fa il rito d'anima, Mary cambia. Mary cambia. Il mondo gira la stanza, con tanto di dialogo brillante, alzo le braccia pronto a ricevere il sole. Odace, la libertà che mi cuore.